bentornati fratelli di tuberanza siamo di nuovo su pokemon gioco di carte collezionabili online ma questo signori miei non è un video come tutti gli altri questo è il video della svolta perché in tantissimi mi avete chiesto più e più volte di creare un mazzo tutto mio e io fratelli devo essere sincero non avevo alcuna intenzione di farlo perché creare un mazzo è molto più complicato di quanto sembra perché dovete riuscire a calibrare pokemon carte allenatore strumento ma soprattutto le energie per non parlare della scelta dell'elemento veramente è tosta però ieri sera avevo del tempo e ho pensato ma quasi quasi ci provo dai facciamo un mazzetto fatto sta fratelli che è uscito fuori questo mazzo qui gestione mazzi ve lo faccio vedere eccolo qua il suo nome è psicologo e voi direte ma perché proprio psicologo ok vabbè perché psico ma una leggenda narra che al momento in cui questo mazzo è stato creato è stato infuso con una specie di magia mistica e una volta che vi siete scontrati con questo mazzo e avete perso per riprendervi avete bisogno di uno psicologo ma non di uno solo forse anche più di uno e voi direte ma tube perché proprio l'elemento psico e ve lo spiego subito allora fratelli psico è un elemento che soffre soltanto se stesso in che senso se io c'ho il mazzo psico e incontro un altro ragazzo con un mazzo psico siamo entrambi nella merda perché io soffro i suoi psico lui soffre i miei psico mentre invece se io mi vado a scontrare contro uno che ha erba elettro lotta o anzi scusate lotta soffre psico tra l'altro oppure acqua io non ho problemi perché praticamente non ho nessuna debolezza però fratelli io direi di dire basta ah allora scusate 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 potete dare un'occhiata ai dati vittorie totali 5 totale partite giocate 6 vuol dire che ne ho persa una e per dei motivi che dovevo andare a mangiare e non potevo rimanere a giocare quindi oggi sarete partecipi alla grande manifestazione del mazzo psicologo Made in tuberanza ed è vietato riprodurlo ve lo dico subito guai a voi se lo ricreate sfida giocatore guardate quanti in un giorno guardate quanti punti ho fatto con sto mazzo 245 so tanti eh so tanti allora un'altra cosa tra l'altro perché adesso che noi abbiamo il mazzo modificato chiamiamolo così non ci scontreremo più contro persone che hanno i mazzi tematici ma bensì solo con le persone che hanno i mazzi modificati ci sarà da spaccarsi a merda via ricerca di avversari disponibili ok avversario trovato madonna che mazzo è quello c'è tutti gli elementi c'ha vabbè allora decido io cioè decido io decido la fortuna ma scelgo io croce madonna stavo per clicca testa hai vinto vuoi iniziare tu figa scusate mi soffio il naso perché non è andata benissimo è vero però tutto sommato poteva andare anche peggio il momento il travessaro sta scegliendo eh se sbrighesse perché qua il tempo stringe ok bene bene mettiamo lui lui e occhio a un own occhio perché lui ha un effetto veramente particolare ed è il seguente lettera di addio si scarta e pesco questa era la carta di cui ho bisogno tenetevi pronti fratelli perché quello che vedrete ora mamma mia guarda Lugia X è pazzescamente forte voi non vi potete neanche immaginare quanto è forte come scusa? ah no che voi volete vedere Mewtwo eh vabbè vorrei dire che dovrò mettere Mewtwo X devo fare vi devo accontentare in qualche modo se proprio volete va bene allora vai Lugia vai 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 ma qua giù ci metto pure X vaffa le metto tutte allora diamo un po' se dare un'energia a lui lo facciamo dopo nel caso doppia energia per Lugia e fine turno oh oh attenzione perché io la debolezza tuono eh non facciamo scherzi eh non facciamo scherzi ok Latios inutile come pochi do la cosa ritiro metto lui anche se subisco un po' di danni non importa però intanto gli iniziamo a togliere qualcosa gli ho tolto 60 sì prossimo turno è morto e indovinate un po' indovinate indovinate un po' chi vince eh lo so lo so lo so fratelli lo so eh lo so sì Lugia è ma come cazzo sto a parlare è veramente stavo a dire è veramente po' no veramente pazzesco stavo a dire di porte sembro Luca giurato stamattina stamattina sono Luca giurato perché la pasta è rigorosamente al luogo quella fresta ma va bene così adesso lui ci sta mettendo tre ore dai forza bravissimo sì gli devi dare energia sì bravo perché è così che farebbe un vero pro bravo bravo qualcuno gli spiega che gli spiega qualcuno gli spieghi che è andato è morto come cazzo parlo oggi incredibile oh 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 attenzione anche lui è l'Ugia X così mi piace gli scontri così mi fanno impazzire a me però non si muove raga questo fa una mosso ogni 15 minuti madonna mia guarda dopo per colpa di ste persone che io sbrocco oh ce l'ha fatta meno male l'ha capito mannaggia tua madre ole anche questa ah no 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 io voglio da questa energia doppia un'altra doppia energia rucca di quella miseriaccia ti sfondo 130 voi direte ma tu beh perché l'Ugia toglie così tanto ebbene perché l'Ugia toglie 20 per ogni energia assegnata a lui e al pokemon attivo dell'avversario e ho detto tutto ho detto tutto adesso lui gli da l'energia non puoi fare niente passi il turno però cerca di essere più veloce amico mio perché mi stai veramente sulle palle oh bravo indovinate un po' chi ha vinto fratelli no no dico indovinate no 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 questo indovinatelo un po' oh come non è morto 130 perca zozza non è morto questo è un bel problema occhio perché adesso il 20 per me lo fa lui si che me lo fa lui basta però io ho lo strumento che mi da 40 punti vita in più quindi ho il culo un po' parato fratello mi dispiace purtroppo guarda giusto per sfregio ma io lo curo così tanto per farti capire chi comanda qui in questo gioco signori e signori buongiorno al pubblico femminile buongiorno al pubblico maschile sta sto signori e signori quindi come le signore se la fanno in del culo quindi signori e signore oggi nonostante la modalità luca giurato eh abbiamo vinto uno scontro pazzesco è durato pochissimo non posso andare subito a fare il pack opening perché per tappare tutto il video dovrei aprire tutti i pacchetti che ho e non si può fare quindi che cosa facciamo esatto ce ne facciamo un'altra perché devo darvi un'altra dimostrazione di potenza del mio mazzo contro Pellex no Pallex no Pellex Pellex decide chi lancia la moneta vediamo un po' hai vinto evviva bravo Pellex per me sei Pellex o no o è Pellex perfetto non ho pokemon base alla grande insomma vai va rimettiamole nel mazzo e peschiamone altre iniziamo la grande proprio sto match questo proprio di brutto uh adesso si che si parla forte oh si cazzo oh si cazzo c'è pure Shemin volendo avrei potuto pure metterlo ho sbagliato ne capita peschiamo tre carte oh questo mi piace questo mi piace guardate questa carta stadio tutti gli attacchi dei pokemon psico sia tuoi che del tuo avversario lui ha il mazzo acqua quindi non ci interessa costano un'energia in meno quindi prossimo turno Latias può togliere 60 più 20 se esce testa però per adesso passiamo il turno non possiamo attaccare il primo eh eh vai vai forza su vediamo un po' come va sto scontro un'energia psidak oh occhio regà occhio perché lui adesso passa il turno non sta mettendo pokemon in panchina ah no ok lo fa lo fa figlio di puzzona è stato bravo è stato bravo perché in questo modo lui mi ha fregato allora il discorso è questo perché se io adesso lo ritiro lo ritiro metto lui però per ritirarlo questo devo dargli una carta energia però già che gliela do faccio cerca famiglia giusto se no insomma sa fa dopo il turno dopo lo ritiriamo allora voglio prendere l'atias e mewtwo porca zozza non c'è vabbè prendo un own così pesco una carta ah no potevo prendere bayam così lo evolvevo sono stato stupido vabbè su via può capitare su via muscolbanda up side croce fatto bene l'energia gli è capitata ha messo il mare oh signore e vabbè poverino lui alla fine non poteva assolutamente saperlo madonna quello che gli esce fuori che energia gli serve lui ah in colore vabbè gliela diamo psico mettiamo il mare eh amico mio è andata così questa partita eh lo so purtroppo aspetta prima di faccio così lettera di addio scarto pesco ipno inutile vai ah 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 si è ritirato l'idiota ma vaffanculo scarso scemo scemo partono pure i corri da stadio qua oh ma che ve pensate oh oh qua madonna che mazzo c'ho che mazzo c'ho che mazzo ho pazzesco pazzesco no pazzesco pazzesco va bene allora adesso si può andare nel pack opening perché da oggi signori miei ogni pack opening assume un significato ben diverso perché a me adesso servono e voglio pokemon forti pokemon ex pokemon con due palle così chiaro ok prodotti ah già c'ho qualche mazzo che devo riscattare vabbè lo apriamo giusto perché perché ripeto sono i nipotini della mia ragazza che comprano i mazzi come se non ci fosse un domani infatti prima o poi andrò a chiedere la percentuale lì alla cartoleria oh ma ho un pacchetto generation lo apro lo apro però lo devo far aprire a qualcuno in anteprima mondiale ma chi è quei ma che cazzo ma che è uno scherzo ma che è sta carta me ne ha presi in giro aspetta con immenso piacere vi presento cappello di palle cappello di paglia rufi che si appresta ad aprire il pacchetto dark ray eh sì 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 allora allora vediamo un po' con turbo crash turbo sì turbo crash sì turbo crash vai madonna lei ha due scontri pazzeschi c'è oh vedi che bufa ti lancio la per terra ti do due possibilità questa è la prima calmi calmi bella questa peccato che mi fa schifo oh è l'ultima l'ultima possibilità che hai vaffanculo raticate a finire pure forte fa schifo proprio lo so lo so lo so lo so quello che state pensando che ci vuole il faraons lo so vabbè raga a mali estremi estremi rimedi vabbè faraons ecco va eh lo so lo so devo sempre ricorrere a te mi serve un po' del tuo potere mistico dai su per favore ecco è già il primo fa cagare ti ho chiesto un po' di potere mistico figa dammelo no no che problema grave qui c'è qual c'è qual non è che voi a forza di dire eh che è sculato è sculato è sculato mi avete fatto andare via tutta la fortuna eh no mi arrabbio allora no guarda voglio andare subito sul sicuro la master ball ok la master ball master ball ti schioppo per terra pure a te anzi forse a te no perché vieni dal giappone però e che cazzo devo fare apriamo uno scontro primordiale cazzo ne so ma apro io apro io perché il faraone fa schifo la master ball fa schifo dark ray ha fatto schifo rubber ha fatto schifo eh non lo so dimmi dove devo usare figa eh con il culo eh devo provare l'ultima l'ultima scienza è con il culo no no è che c'è proprio io la sento questa questa fluenza maligna che è qua intorno a me c'è qualcosa che porta male ma che cosa non lo so apriamo un pacchetto del plasma storm ninja storm rangers go yeah eh mo provo con la lingua è l'unico l'unico perché di solito si emoziona il gioco con la lingua di solito uh bello sto watchdog ma dai ma che carte di merda perché perché che vi ho fatto di male io sono sempre stato bravo turbo blitz eh 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 basta antiche origini una delle espansioni più brutte che abbiano mai fatto raga non so più con cosa aprire non lo so proprio cioè tutti i metodi hanno fallito l'unico modo che mi ha fatto è questo ecco le mie vita baby tiranita rex mamma mia pensavate forse che non avrei trovato un pokemon raro no 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 ditemelo pensavate davvero questo mmm mmm tiranita rex ok vediamo un po' che cosa fa questo pokemon sto a dire a ciascuno dei tuoi pokemon in bagno ricorda ah vabbè però togli 130 ops il telefono bene non risponderò mai anzi chiudo la porta apriamo un altro tanto ma che cazzo me ne frega ho trovato i ranita rex figa che pokemon figa vai mega amforo sex ma che raga tutto con questo dito ma che cos'è ma che sto trovando il mondo il mondo il mondo basta ho intonato un pochettino mamma mia che carte trovo ma che mostro che mostro no raga basta no no basta non posso aprire un altro pacchetto perché non sia mai trovo qualcos'altro cioè qui veramente parte parte qualcosa parte poi si ferma però parte e allora fratelli con questo video pazzesco io non ho mai chiesto i like ok però io per questo video voglio 80 milioni di like perché uno ho fatto come mi avete chiesto ho creato un mazzo pazzesco e abbiamo arato due due poveracci che adesso avranno bisogno dello psicologo ok perché ve l'ho già detto se affronti psicologo il mazzo poi hai bisogno dello psicologo ok ho fatto un pack opening pazzesco pazzesco no perché è proprio pazzesco perché due pokemon del genere senza l'utilizzo di pharaons e altri cazzetti e mazzetti ma solo con il mio dito non è da tutti ok quindi allora io voglio 80 mila like primo secondo 500 mila milioni di miliardi di condivisioni ok perché questo video deve arrivare a tutti coloro che vogliono crearsi un mazzo e capire che qui nelle marche a Sametto del Tronto c'è una persona che ne ha creato uno con due palle e così non mi rimane però che darvi l'appuntamento fratelli miei con il prossimo video sempre e solo qui su tuberanza con pokemon gioco di carte collezionabili online ciao ciao